Consigliere Cima, mi dica come dobbiamo procedere. Mi sembra che questa commissione si possa tranquillamente ritenere chiusa, con l'impegno ovviamente di riaggiornarsi, perché poi magari nelle conclusioni dirò cosa penso di tutto quello che c'è stato detto oggi. Quindi ad oggi chiudiamo ovviamente, poi ci riaggiorniamo. Quindi non fa le conclusioni o le fa? No, no, le conclusioni no, pensavo che mi chiedesse semplicemente, chiedo scusa, allora faccio le conclusioni. Esatto, grazie. Allora, anche io ringrazio tutti i tecnici, veramente è stata una commissione estremamente interessante, i contributi sono stati assolutamente tutti molto validi, e soprattutto danno un segnale che, come diceva prima anche l'assessore, il segnale è che effettivamente ci sembra di assistere ad un cambio di passo. Abbiamo fatto tante commissioni, e devo dire che per la prima volta in tanti anni ho sentito parlare anche persone appassionate, cioè persone che non fanno semplicemente, tra virgolette, ma in maniera legittima, il loro lavoro, ma anche hanno sposato un po' la causa, una cosa che sinceramente segnalo con molto piacere. Mi permetto, e sono messo a messo di correggere l'incerenza a voia, perché quello che mi aspettavo, che è stato detto, non va contro il corrente, ma va esattamente nella corrente, non parliamo di canali, quindi insomma mi permetterà la battuta. Terremo sempre l'attenzione molto alta, perché dobbiamo risolvere il problema in maniera definitiva. Ringrazio veramente per la serietà con cui si sta affrontando la questione, e soprattutto un elemento che è emerso, che ripeto anche da altri incontri precedenti, secondo me non era così chiaro, che è la volontà del dialogo fra tutti gli enti che hanno competenza sul canale, perché forse, dico forse, negli anni passati c'è stato un po' di rimpallo, e non c'è stata questa volta, cioè ho notato effettivamente da parte di tutti la volontà di stare assieme su un unico tavolo, per ragionare assieme come risolvere le questioni. Peraltro fatemi dire, le foto dell'ingegner Bolemesi mi sono sembrate estremamente affascinanti, che non fanno altro che confermare quanto ci siamo detti, ovvero la straordinaria potenzialità storica e architettonica dei canali. Non aggiungo niente, se non appunto che faremo il nostro lavoro come consiglio comunale, cioè di tenere alta l'attenzione, di affrontare comunque con impegno fermo e continuo su questa strada il monitoraggio di quello che succede attorno al canale. Grazie. 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 Grazie.